Mr. Mattia Bernardi esce a testa alta qui dal centro di allenamento dell'Inter dedicato a Giacinto Facchetti la formazione del Parma che è perso con l'Inter però è rimasta in partita a lungo facendo vedere anche qualche buona occasione Sì, guarda io non posso fare altro che fare complimenti a questo gruppo fantastico che è arrivato fino a qua nelle prime otto d'Italia ci ha creduto comunque sempre, la cosa certa è che abbiamo sempre fatto il massimo abbiamo sempre fatto il massimo, l'abbiamo fatto nella partita d'andata, nonostante fossimo sotto di tre gole ci siamo rimessi in piedi abbiamo fatto una bella settimana e siamo venuti qua a giocarci le nostre carte in primo tempo sicuramente con un po' di sfortuna ci hanno annullato un gol che dalla mia prospettiva non ho potuto vedere ma mi è sembrato un inserimento da dietro, non credo fosse fuori gioco, comunque il calcio è questo non è giusto attaccarsi agli episodi, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo fatto il massimo complimenti a questi ragazzi Sentivo prima anche il direttore notari che parlava di questa identità che il Parma Under 17 ha sempre saputo trasmettere nel corso di questa stagione e che ha fatto vedere anche nella partita di oggi questo è l'orgoglio più grande, io loro dico sempre la cosa più bella è che siamo arrivati ad avere un'identità tale che se dovessimo giocare senza la maglietta da fuori ci possono riconoscere questo per me è motivo di grande orgoglio tutto il gruppo, oggi eravamo qua in 24-25 giocatori, anche quelli fuori hanno dato una grossa mano e li ringrazio, credo che come ha detto il direttore, tutto il Parma possa essere orgoglioso di questi ragazzi Un punto di partenza diceva anche? Sicuramente, è il suo primo anno, credo che sia stato un anno di successi di là che non siano arrivati i titoli, credo che sia stato per lui motivo di orgoglio avere questi gruppi di ragazzi perché adesso la 16 è in semifinale, noi siamo arrivati fino a qua, la primavera è arrivata quasi fino in fondo io credo che sia un ottimo punto di partenza, il direttore è una persona molto ambiziosa sicuramente non si potrà fare altro che fare meglio il prossimo anno E prendo quindi il bilancio finale? Il bilancio finale nostro, io l'ho già detto, credo che sia più che positivo nessuno, o forse non nessuno, noi ci abbiamo sempre creduto però ad agosto diciamo che non eravamo sicuramente una delle favorite a trovarci a giocare un quarto di finale con l'Inter non lo eravamo nemmeno prima di giocare andata e ritorno siamo arrivati qua fino al 2-0 ci credevamo il bilancio io credo che sia molto molto positivo Grazie mille Grazie a te